Ciao a tutti i tifosi della Roma, abbiamo visto in primo tempo una Roma non soddisfacente e in secondo tempo è uscita un po' fuori, ha cominciato a giocare, ha cominciato a creare un po' di spazi, a creare un po' di qualche pallagolle, poi ci è riuscita creandone due pallagolle, però poi altrettanto mangiandosi un bel paio di gol, una Roma discreta, però facciamo punti e ritorniamo su in classifica, siamo a 30 punti e va bene così, alquilché siamo, sembra al quinto posto, se non va grato, per cui adesso finiscono le partite, siamo 20 giorni, mi sembra senza partite e poi riprendiamo, ma sicuro, sicuro che dopo la sosta la Roma, non so chi fa, mi sembra col Torino, giocando col Torino dopo la sosta si sa sempre la Roma che fine fa, lo sapete no? Voi riposi giallo rosso, anzi non riposi giallo rosso, un augurio a tutti voi di buon anno, fine anno e un buon inizio del 2019, ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!